Ciao ragazze, ciao ragazzi, io sono Mari, sono una nutrizionista e in questi anni ho aiutato tantissime persone a ritrovare la propria forma fisica, ma soprattutto le ho aiutate a ritrovare se stesse. Oggi voglio presentarti la mia nuova rubrica che ho voluto chiamare Caro Diario, dove voglio aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di peso attraverso una relazione più sana con il cibo. In ogni episodio voglio condividere con te una pagina di quello che potrebbe essere il tuo diario alimentare, dove esponi anche le tue emozioni legate al cibo e proverò a rispondere alle tue domande in modo da poter trovare insieme una soluzione. Sarà come avere un'amica che ti sostiene e ti aiuta a superare le difficoltà. Userò un nome di fantasia per riferirmi alla persona di questa pagina del diario e ho scelto il nome Matilde, che vuol dire forte in battaglia, ovvero con lei che combatte con forza ed è quello che auguro a tutti noi. Iscriviti al mio canale ed iniziamo questa avventura insieme, perché come si suol dire, da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Caro diario alimentare, finalmente posso scriverti con gioia e felicità nel cuore perché dopo tante cadute e momenti difficili ho finalmente raggiunto il mio obiettivo di perdere peso e ritrovare la mia vita. Non ti nascondo che il percorso non è stato facile. Ho dovuto affrontare tante sfide e superare molte tentazioni, ma alla fine ce l'ho fatta. Ho imparato a mangiare in modo più sano e a fare più attività fisica e questo ha fatto la differenza. Ricordo ancora quando ho iniziato questa avventura, ero triste e insoddisfatta della mia vita. Mi sentivo intrappolata in un corpo che non mi piaceva e che mi faceva sentire inadeguata, ma poi ho capito che dovevo fare qualcosa, che dovevo mettere in gioco tutte le mie energie per raggiungere il mio obiettivo. Così ho iniziato a seguire un'alimentazione più equilibrata, facendo attenzione a ciò che mangiavo e cercando di evitare gli alimenti più dannosi. Ho iniziato anche a fare più attività fisica, camminando di più e facendo qualche esercizio a casa e piano piano ho cominciato a vedere i risultati. Ho perso peso, il mio corpo si è tonificato e mi sento più energica e vitale. Ma non è solo una questione di aspetto fisico, mi sento anche più felice e sicura di me stessa. Ho ritrovato la mia autostima e la voglia di vivere. E adesso che ho raggiunto il mio obiettivo non voglio mai più tornare indietro. Voglio mantenere questa nuova vita continuando a mangiare sano e a fare attività fisica. So che ci saranno momenti difficili e tentazioni, ma ora ho la forza e la determinazione per affrontarli. Grazie per avermi accompagnata in questo percorso e spero che la mia esperienza possa essere di ispirazione per chi, come me, vuole cambiare la propria vita. Con affetto, Matilde. Cara Matilde, sono felice di leggere la pagina del tuo diario alimentare e di sentire tutta la gioia e la soddisfazione che hai provato nel raggiungere il tuo obiettivo di perdere peso. Hai fatto un grande lavoro e sono sicura che hai ispirato molte persone con la tua esperienza. Hai ragione nel dire che questo percorso non riguarda solo l'aspetto fisico, ma anche la tua salute mentale e la tua autostima. È fantastico sapere che hai ritrovato la tua voglia di vivere e la fiducia in te stessa e sono sicura che questa nuova vita ti porterà ancora tante felicità e soddisfazioni. Continua a mantenere questa grinta e determinazione che hai dimostrato finora, perché sono la chiave del tuo successo. E non dimenticare di condividere la tua esperienza con gli altri, perché può essere di grande aiuto e ispirazione per chi vuole fare lo stesso tuo percorso. Sono felice di essere stata qui ad ascoltare i tuoi progressi e i tuoi pensieri e ti auguro il meglio per il tuo futuro. Continua a lottare per te stessa e per la tua salute. Ancora davvero complimenti, complimenti quando leggo queste storie di successo, perché è quello che sono, quando noi raggiungiamo i nostri obiettivi, è la cosa più bella che ci possa capitare. Quando abbiamo in mente di raggiungere un qualcosa e finalmente lo otteniamo, ci riusciamo, è la cosa veramente, è la soddisfazione più bella che ci possa essere. E abbiamo bendonde di essere felice di noi stesse, di essere orgogliose di quello che abbiamo ottenuto, perché quello che noi otteniamo lo otteniamo solo se lo vogliamo davvero, come prima cosa, e solo se veramente restiamo determinati fino alla fine. Se cadiamo non importa, basta rialzarsi. Ogni caduta ci insegna sempre un qualcosa, ci porta avanti, ci insegna a capire appunto gli errori che si sono fatti e ci dà la possibilità appunto di evitarli, perché sappiamo già di aver fatto un errore, sappiamo come ci siamo sentiti in quel determinato momento e siccome penso che non siamo nessuno di noi dei masochisti che vogliamo farci del male, che vogliamo soffrire per forza, è ovvio che andremo poi a far meglio e a non ricadere più in determinate situazioni. Quindi veramente ancora complimenti, è bello, ci ho tenuto tantissimo, c'erano altre email prima della tua, però la tua appena è arrivata mi ha riempito di tanta gioia che ho voluto leggerla subito, perché appunto è bello anche essere partecipi, festeggiare, far capire alla gente che ce la si può fare. Ci sono tante storie come negli episodi precedenti che magari sono un po' se vogliamo anche tristi, storie combattute, storie di sofferenza ed è giusto raccontare anche queste perché la vita non è fatta purtroppo solo di cose belle, quindi è giusto anche raccontare il brutto della vita e dare una parola di conforto per far capire che anche lì ce la si può fare, che si possono superare i momenti difficili. Come diceva una canzone non può piovere per sempre, quindi il sole torna sempre a risplendere i momenti no, ci sono e ci saranno sempre, come dice la Matilde di questa settimana, lei è consapevole del fatto che sicuramente ci saranno dei momenti dove lei magari andrà di nuovo a cadere, dove avrà momenti di sconforto, però il fatto di poter andare avanti, di sapere di potercela fare, è lì che sta la forza e davvero, cioè veramente complimenti, complimenti, è stato bello leggerti e spero davvero anch'io come dici tu che questa tua esperienza, questo tuo percorso e ne sono sicura possa essere di aiuto a tante altre persone, sapere che altre possono farcela, che ce l'hanno fatta, ci dà sempre quella spinta in più, quella grinta in più. Tante ragazze per dire nel gruppo, mi è capitato spesso di sentirle dire sai, vedendo l'esperienza di, faccio un nome a caso, di Gloria o di Maria per dire, leggendo la sua esperienza, vedendo il suo video, leggendo il post che lei ha scritto in merito a quello che è stato il suo percorso, mi ha dato la spinta di andare avanti, di non mollare e di capire che anch'io posso farcela, c'è speranza anche per me, c'è speranza per tutti, ovviamente basta volerlo, basta combattere per raggiungere i propri obiettivi e ce la si fa, ce la si fa, davvero, ancora ancora complimenti. Grazie per questa tua email che spero possa essere appunto di ispirazione e di aiuto a tante altre persone. Spero intanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, se vuoi essere tu la prossima Matilde scrivimi un'email all'indirizzo carodiarioalimentare chiocciolamarinesci.com e non vedrò l'ora di leggerti e di risponderti. Inoltre vorrei ricordarvi e presentarvi il mio manuale in versione cartacea, è arrivato oggi da Amazon, abbiamo richiesto delle copie gratuite per vedere appunto sia la dimensione, sia come viene proprio già bello che è stampato ed è bellissimo, all'interno troverete tutto quello che c'era comunque nel pdf gratuito che molte di voi hanno scaricato, è davvero utile, con la differenza e questo è appunto nella versione cartacea da portare in giro, ha la dimensione come vedete di un libro, però ci sta anche nella borsa, così di avere sempre a portata di mano il vostro manuale, così da capire meglio come funziona la dieta a punti, c'è veramente tutto, è spiegato tutto dal come funziona, quanti chili si possono perdere, a come calcolare gli alimenti, a come c'è più o meno spiegato, in grosso modo spiegato come funziona l'applicazione, per quello ci stiamo lavorando e abbiamo pensato di creare eventualmente un manuale anche e solamente sulla applicazione, tra l'altro in questo mese, spero nelle prossime settimane uscirà la nostra nuova applicazione che sarà ancora più completa, ancora più utile, veloce e noi non vediamo l'ora di farvela avere, intanto come detto questo manuale è disponibile su Amazon al prezzo di 9,99 euro e vi arriverà appunto così, in questa versione sono 50 pagine totali di manuale, vi lascio il link sotto in descrizione ed io vi ringrazio in anticipo, come detto se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima, baci e tschüss! Grazie a tutti!